Non abbassiamo la guardia e l'appello delle segreterie territoriali CGL Cisle Will Funzione Pubblica in seguito alle notizie nazionali sulla diminuzione dei contagi. Nell'isola, in particolare a Sassari, nel pronto soccorso del Santissima Annunziata, i tempi di attesa dei ricoveri restano lunghi. Nell'area Covid, dopo qualche giorno di respiro, si è ritornati ad avere almeno 30 pazienti in attesa di posti letto da tre giorni. Costretti ad attendere sulle barelle sottrate alle ambulanze o a sostare addirittura sulle sedie. Sono persone con patologie complesse che necessitano di assistenza continua. Stessa condizione nelle aree pulite. Insostenibili, si legge ancora nel documento unitario dei sindacati, i carichi di lavoro degli operatori sottoposti a turni massacranti in tutti i reparti dell'azienda ospedaliera. Anche sulle misure di sicurezza e protezione, CGL Cisle Will invitano le direzioni aziendali affinché si avvino le verifiche sulle conformità dei dp, nonché sugli screening e la sanificazione degli ambienti di lavoro, poiché risultano diversi casi di contagi del personale del pronto soccorso e della rianimazione. Questo comporta un'ulteriore diminuzione dell'organico che già prima della pandemia era sottodimensionato. A questa situazione, si legge ancora nel documento sindacale, si deve sommare la sospensione dell'attività chirurgica a salvo i casi di urgenza, ridotte anche le visite ambulatoriali e la diagnostica. Sul fronte della medicina territoriale, concludono i sindacati, si auspica un potenziamento delle USCA per decongestionare le corsie dei vari presidi ospedalieri.